Siamo, eccoci, cari amici, cari amici, buon pomeriggio, buona domenica, benvenute, come già vi avevamo annunciato, ba 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 ba, io ho le prime papere qui, eh, come già vi avevamo annunciato, in seguito all'orologio c'è una bella presentazione, bella insomma, presentata da me, quindi una presentazione, una presentazione di argenti, sono tutti pezzi antichi, molto, molto belli, quindi avremo delle ciotole, avremo dei calici, avremo del, un servizio, c'è un bellissimo servizio da tè e da caffè, quindi veramente tante, tante bellissime cose che vedremo insieme, a prezzi comunque veramente molto, ma molto contenuti, quindi io direi che siamo prontissimi, dopodiché seguiranno i gioielli.